Sono tre processi in corso e quindi è giusto rispettare la presunzione di innocenza, ma sono tre processi diversi. Ci sono numerose intercettazioni e anche ammissioni da parte di Papa e Milanese che fanno osservare queste cose in una maniera, poi chiaramente loro dimostreranno nel processo quello che hanno fatto. Nella vicenda di Alberico Gambino io credo che bisogna rispettare il lavoro del giudice e delle forze dell'ordine, bisogna aspettare anche il pronunciamento degli organi previsti, io ho massimo rispetto della magistratura e delle forze dell'ordine operantiche, ma ho letto tutta l'ordinanza che è alla base dell'arresto di Gambino, onestamente non mi sembra che ci siano gli estremi di quello che gli viene contestato.